Ditelo a noi. Un ulteriore appuntamento di questa trasmissione, voi tanto la sollecitate, la seguite, mi fermate, mi dite i vostri assensi, i vostri dissenzi, le vostre sollecitazioni. Sono tante e tantissime le cose da farsi che amici a casa dovremmo tentare di farla un giorno sì, un giorno no la trasmissione, ma non si può fare così. Bene, voglio iniziare questa trasmissione con un evento gioioso perché alla fine vi faremo vedere come un signore anziano, appena compiuto 18 anni l'altro ieri, ha 80 e più anni in verità, come spende il suo tempo, non sta con le carte in mano, non sta nei circoli buttato a dire parolacce o nei parchi. Io vedo nel parco Schwerth si radunano tante persone mature, le urla e le bestemmie arrivano dappertutto, quindi sono di pessimo esempio ai bambini. Comunque una persona laboriosa che spende il suo tempo, solo a boccetta perde sempre, vedete che c'è questa passione, spende il suo tempo nel realizzare tante belle cose. Bene, siamo andati in via Giovanni Gentile, abbiamo incontrato la signora Esterina Pecci, non solo lei ma tante belle signore. Andiamo a vedere quali problemi si tratta, ci sono tre problemi che vanno risolti, andiamo a vedere. Dittelo a noi, siamo venuti qui, ci ha chiamato la signora Pecci, Pecci come? Ester. Ester, siamo in via Giovanni Gentile, alla mia destra c'è, come diciamo, il mercato coperto, via Giovanni XXIII, quindi proprio davanti a noi ragioneria. Signora Ester, allora qui ci sono dei problemi seri, verranno a pulire le catitoie domani, però c'è un però, qui ci sono degli alberi. Eh, tagliare prima i rami agli alberi, questa è la cosa più importante perché quanto passano autotraini, diciamo, spezzano i rami, dobbiamo scendere noi dall'abitazione per tirarli giù, perché ci sono ragazzi che passano con i motorini e c'è il pericolo che vada a terra, si faccia male gravissimo, anche i bambini che passano e dobbiamo prevedere noi per loro. L'ultima potatura, quanto è stata fatta che lei ricorda? Circa due o tre anni fa. Due o tre anni fa? Sì, 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 due anni fa. La signora si ricorda meglio, come mi chiamava, signora? Carmela. Che bello nome, Carmela, che bello. Ecco, due anni fa hanno potato. Due anni fa, sì. Quindi quando passano i camion si spezzano i rami? Certo. Per i bambini che giocano, vengono a giocare, a prendere il pallone, comunque è pericoloso per i bambini. Per chi cammina, per chi passa, comunque qua è un passaggio pedonale, quindi è un pericolo comunque chi cammina per le macchine, per i motorini, per tante cose. Quindi in effetti chiedete una... Se puoi pulire a terra, se poi sopra comunque si sporca, cadono gli alberi, i rami, è inutile. Quindi... Pagano inutilmente, il comune paga inutilmente. Il comune siamo noi, signora. Ecco, noi paghiamo inutilmente. Non bisogna vedere la pulizia del... Sì, anche questo, però la cosa più importante è la salute delle persone, l'umanità delle persone. Ci sono topi qui. Topi. Topi che io abito... Come si chiama lei? Anna. Tutti bei nomi avete. Io comunque abito al... Piano Romano. Eh, Piano Romano e quindi entrano più... Più... Cioè, eh, subito. Da dove vengono questi topi? Dalle fogne, da questo bel vedere qua. Questo è proprio abbandonato, eh, questo. Non mi hai pulito qui. Io andai già due anni fa, perché già mi capitò dei topi in casa, addirittura, e vennero. Ma due anni fa, solo però per le fogne. E qui dissero che non era di loro... Compete, perché questo non è comunale, questo è della provincia. E che significa? Però comunque noi qua abitiamo, io alla fine ho un bimbo che ha tre mesi, e quindi alla fine non è che posso stare sempre chiusa in casa, perché proprio altra sera ho un buco così nella fognatura, altra notte. Cioè, altra notte. Se parlate così non si sente, che avete detto? No, è un tombino di plastica, ha fatto un buco così, dalla fogna sotto che voleva entrare. Non è un topo, è una pandecana questa. Ma io non è che posso stare chiusa dentro, oppure sempre all'erta, magari a vedere se ci sono cacche, oppure c'è... C'è un problema di topi, un problema di pulire, di taglio, diceva bene la signora, signorina? Teresa. Teresa, ecco, diceva bene, bisogna prima pulire sopra. Avete un altro problema voi qui, alla base degli alberi? Sì, le radici che stanno per uscire fuori, c'è pericolo anche di traversare la strada, per andare a fare l'aspetto. Le radici si vedono? Le cose più importanti che bisogna fare. Le radici qui si vedono, se si guarda bene si vede tutto l'asfalto alzato dalle radici, perché purtroppo qui, questi alberi non andavano messi qui, penso. Quindi ci sono più problemi. Allora noi ringraziamo la signora Esther, la signora Maria, Anna, la signora... Margherita. La signora... Arianna. Arianna. La signora Teresa. Teresa. La signora... Bella. Lei non vuole dire niente, signora? Prego. Patrizia. La signora Patrizia. Non sono di qua. È d'appoggio, è d'appoggio. L'unico maschio sei tu, come ti chiami? Umberto. Umberto, che bel bambino. Allora sono problemi, appunto, le radici degli alberi che sono venute fuori, questi alberi vanno sfrondati. L'ultima pota, ci diceva la signora... Carmela. È venuta oltre due anni fa, quindi non va bene. Va bene la pulizia delle caditoie, ma bisogna pulire un po' tutto. Tutto in coro, vogliamo dire ditelo a noi? Sì. Uno, due, tre. Ditelo a noi! Quindi abbiamo visto, c'è questo problema importante di questi rami che appendono, questo fogliame che cade, adesso vanno pulite le caditoie, per fortuna, quindi non appena avremo le piogge non si allagherà niente. Quindi abbiamo questi alberi che appendono, andrebbero sfoltiti, andrebbero sfoltiti anche in maniera seria, andrebbero alzati questi rami, come anche in corso Mazzini, vedo queste piante che ormai hanno questi rami pendenti e hanno coperto tutta la segnaletica stradale. Ma in via Giovanni Gentile, che poi è vicino al mercato coperto, al nuovo mercato coperto, non quello che esisteva in via Rosario Senatore, un tempo, tanti anni fa, quando ero ragazzino, il nuovo mercato coperto, quindi lo avvicino, e questa esigenza è dettata dal fatto che quando passano i camion, giustamente diceva la signora Esterino, ma anche le altre signore, è pericoloso perché in effetti i rami si spezzano, cadono e possono creare problemi come li hanno già creati. Ci sono pandecane che non vi dico e questa è una delettizzazione particolare ma fatta perché c'è un piazzare, uno spazio proprio attivo a ragioneria, l'Istituto Tecnico di Matteo della Corte, chiamiamolo col suo nome, il quale è incolto, è abbandonato e quindi c'era di tutto e di più. Adesso il problema qual è la provincia, la regione, il comune, il verde pubblico, le competenze, lo dirò anche in un altro contributo più avanti, qua sono troppe competenze, non va bene, le province pare che stanno per essere, come posso dire, stanno per finire, se non sono finite del tutto e quindi queste competenze non si sa di chi sono, però il problema rimane. è questa signora giovane che è un bambino di tre mesi, ha visto tutte donne, l'ha cerchiato da donne, ma c'è anche un bel bambino che saluto e gli do la mia stima, la mia simpatia. Non do la mia stima, la mia simpatia a quei ragazzacci perché sono dei giovani bulli che hanno spaccato sette vetri al sottopasso della stazione ferroviaria qui a Cava dei Titei. Andiamo a vedere. Ditelo a noi, ecco l'ultimo regalo che ci hanno fatto i giovani, di dove siano non lo sappiamo, sono cavesi, sono dell'Agronocionino, questo non lo sappiamo, certamente è un regalo che ci hanno fatto i giovani, sono sette vetri, sette vetri che sono spaccati, ci troviamo nella stazione ferroviaria qui di Cava dei Tirreni. Non c'è più rispetto per le cose, è inutile dirlo, alle 13.35 il bigliettaio va via perché arriva alle 6.20 e va via alle 13.35 e poi questo plesso, quindi lo plesso ferroviario alla stazione, è nel libero albidio di chiunque, chiunque viene qua e fa quello che gli pare e piace, la vigilanza, non ne parlate proprio, questa parola ce la dobbiamo scordare, non esiste che la polizia locale, i carabinieri, la polizia di Stato, la guardia di finanza, la forestale, guardate quanti colpi di polizia abbiamo in Italia, scende d'iniziativa e viene qua a guardare se il Livio Tapanese si comporta bene o fa il bullo o spaccia stupefacenti o con altri amici, qua se venite alle 12.20 e alle 1.35 vedete i cannaroli, qua è una cosa incredibile quello che avviene, quindi hanno spaccato questi sette vetri del sottopasso, è un danno, dico tu delinquente che l'hai fatto, che hai pensato di fare? Sei andato a casa e hai mangiato a pranzo con i tuoi genitori, con i tuoi fratelli in maniera più compiuta, più allegra, hai fatto una bravata, che hai fatto? Hai regato un danno alla società, qui c'è una fontana che un tempo, tanti anni fa funzionava, niente di difficile, è stato preso una pietra, ci sono tanti massi là dentro e hanno fatto questo regalo, vedete che è una cosa incredibile, adesso ci vuole danaro pubblico, imbecille, quello che tu rompi è danaro pubblico, non è che i soldi vengono da Marte, quello vorrei far capire a voi giovani quando fate e create danni, va bene? Ditelo a noi. Che voglio dire a questi giovani? Bravi, avete fatto una bella cosa, bravi, no? Siete andati a casa, avete ripostato tranquillamente, mi diceva un amico, quando abbiamo chiuso questo contributo, che non è stato fatto di notte ma in pieno giorno, allora lì ci sono degli orari, l'ho detto nel servizio, dalle 6.20 alle 13.35 c'è il personale alla biglietteria, ma poi dopo non c'è più nessuno, ma anche se c'è il personale alla biglietteria c'è il bigliettaio che sta lì nel suo gabbiotto, fa il suo dovere e finisce là, quindi non può vedere cosa fanno questi delinquenti che sono dei delinquenti, io non ho detto, sono cavesi per carità, o sono di dove non c'era, non ho detto niente, sono dei giovani che solamente un giovane imbecille o dei giovani imbecilli possono fare queste cose, tu che hai spaccato o voi che avete spaccato questi sette vetri, che cosa avete realizzato? Un danno alla collettività, questo avete fatto, un danno alla collettività, imbecilli, sappiate che il denaro pubblico è il denaro nostro, è il denaro dalle tasse, dalle imposte, dai contributi, questi sono soldi, non è che piavano dal cielo, imbecilli, che siete degli imbecilli quando fate queste cose, tutti siamo stati ragazzi, però non siamo mai arrivati a fare queste stupidate, che sono veramente delle vigliaccate, delle porcate. C'è una richiesta particolare di persone che abitano a Pregiato, Pregiatello, via Pasquale Atenolfi, via Eduardo De Filippis, la salita di via De Fabri, che è il ponte di Pregiato, andiamo a vedere qual è la problematica perché è seria. Ditelo a noi, ci troviamo in via 25 Luglio, ancora, qui alla mia sinistra come vedete c'è l'incrocio per il Pregiatello, diciamo per il Pregiato, via De Fabri, questa qua si chiama il ponte di Pregiato, tra virgolette, in modo che capite. Cosa viene segnalato e reclamato? Dice, non è possibile che appare il verde per le autovetture, per gli automezzi, questi che scendono a Nocella o quelli che salgono da Nocella verso Cava, e poi appare il verde contestualmente anche per i pedoni, per l'attraversamento dei pedoni. Non va bene, come avviene questo semaforo, amici a casa? Avviene anche l'altro semaforo all'altezza di viale degli asci, è la stessa cosa. Allora, io vorrei fare proprio una segnalazione a Michele Lamberti, è possibile mettere questi semafori quando è verde per le vetture, no? Vedete questa vettura va a destra, ma se deve attraversare un pedone, mettiamo un semaforo con la pulsantiera, con il pulsantino, pigia e c'è il rosso per le autovetture, per gli automezzi e il verde per i pedoni, così vanno in sicurezza, non si può avere il verde alle autovetture, agli automezzi e ai motomezzi, chiamateli come voi vale e piace, e il verde al pedone. È un problema annoso che si ripete da anni ed è pericolosissimo sia qui al semaforo di via dei Fabri e sia al semaforo di via degli Aceri. Meglio di così, io non lo so spiegare, ci vuole un semaforo, i semafori tutti e due per i pedoni che devono attraversare l'ex statale 18 qui via 25 Luglio, con la pulsantiera, un pulsantino deve pigiare, appare il rosso agli automezzi, gli automezzi si fermano e i pedoni possono passare in sicurezza, attraversare la strada in sicurezza, ditelo a noi. Quel semaforo non può, i semafori, parlo di questo via dei Fabri e parlo di quello del suo via degli Aceri. Non può apparire il verde ai veicoli e il verde ai pedoni. Dobbiamo decidere chi deve passare. Allora occorre per forza realizzare, quindi imporre, come è stato fatto a Vietri, anche se in modo sbagliato, perché a Vietri ne pigiamo uno e si accendono tutti quanti e non va bene, o tre o quattro, non dico tutti, ma qui a cavo dei Tireni occorre che all'altezza del semaforo, cioè davanti al supporto del semaforo, vi sia un pulsante per la chiamata per il verde, finché il pedone passi in sicurezza. Non può, le macchine che scendono dal viale degli Aceri o vengono dal via dei Fabri, si mettono su via 25 Luglio, la casa statale 18, e incontrano poi i pedoni. Non è possibile questo. O passano i pedoni o passano le vetture. Michele Lamberti, tocca fare qualcosa, capitano Lamberti, lei che è tanto sensibile, deve fare qualcosa, alternativamente i pedoni o le autovetture. O le autovetture o i pedoni. Non possono passare contestualmente pedoni e autovetture. Non è possibile. Anche una volta Pasquale Aramo mi raccontò questa cosa, che il figlio lo stavano alzando in aria e non va bene. Non aspettiamo che succeda la tragedia, provvediamo prima. Va bene? Siamo stati in corso Giuseppe Mazzini. Vi ricordate il corso Giuseppe Mazzini, quell'acqua che cadeva da quell'eduttore di potenza? Per anni è caduta acqua. Noi ci siamo interessati, e in men che non si dica, il giorno successivo mi ha incontrato, il signor Vittorio ha visto la trasmissione, mi ha incontrato, non vi dico il cognome, Don Vittorio, mi ha fermato, mi ha detto, dottor avete ragione? Io ho ragione. Qua ragione, chi può scivolare e si spezza la gamba, perché si era creato il lippo, quella melma verde sul marciapiede, perché sono anni che buttava acqua. Ed è un esercizio pubblico, ora che gli arriverà la fattura dell'aosino, si beccherà una botta tra i denti questo, che si farà male, che non è acqua consumata per impastare il pane, ma è acqua purtroppo che è stata spesa, è stata consumata da nessuno, perché è stata buttata a terra. L'acqua non si spreca, l'acqua è l'oro, è la più preziosa dell'oro, e voi questo non lo volete capire. Don Vittorio mi diceva che aveva riferito alle signorine di questo esercizio, le quali se ne sono fregate, lui a sua volta, di propria iniziativa, ha richiamato, ha chiamato il proprietario di questo esercizio commerciale, il quale ha provveduto. E questo ringrazio Don Vittorio che ha fatto una cosa buona. Le pensiline, le pensiline che abbiamo sul corso Principe Amedeo, a Via 9, diciamo noi, e le pensiline che stanno sul nuovo trincerone, mancano di panchine e non va bene. Mancando di panchine, questa povera gente come deve fare? Andiamo a vedere. Ditelo a noi, più persone ovviamente di una certa età mi hanno segnalato, e io l'ho visto, sono di Cava dei Tirreni, quello che ci tiene a questa città, fra i tanti come voi, mi hanno segnalato che sotto queste pensiline, non solo questo lato che da, diciamo, dal versante sud, no, da nord verso sud, va a Salerno, ma anche il nuovo trincerone, le pensiline non hanno le sedute. E in effetti è così. Allora, le persone, cioè quando noi scendiamo a Cava, anche dalle frazioni, facciamo la spesa, abbiamo queste buste in mano, è anche indecoroso, insomma, metterle a terra. Allora, si pensava a far posizionare delle sedute, delle panchine, con delle pensiline dove appoggiare pure queste cose, ma soprattutto quella cosa importante, di avere delle panchine, almeno un paio di panchine qui è coperto e rendere più agevole, più confortevole, no, queste panchine. Voi immaginate uno che aspetta, pure chi deve andare a Salerno, non solo chi va nelle nostre frazioni, sono 21, però anche chi deve andare a Salerno, aspetta, 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 insomma, si siede e sta un po' più tranquillo. In altre città d'Europa c'è qui un pannello, quando io vado a Vienna, vado a Monaco, c'è un pannello che dice fra quanti secondi o quanti minuti mi arriva il pullman, qua siamo in Italia, nel sud Italia e chissà se i miei pronipoti lo vedranno questo, vabbè, ma quantomeno delle panchine, degli appoggi, dove appoggiare qualcosa, degli alimenti per esempio, dove comprare la carne, il pane, vabbè che è confezionato, è condizionato, però delle panchine, delle sedute, che sono tutte così, sia a questo lato e sia dall'altro lato, come avete visto. A chi lo dobbiamo dire? Non so il compito di chi è qua, del CSTP, della Sita, dell'amministrazione comunale, di chi gestisce queste coperture, questo io non lo so, non so di chi sia, ma sono certo che questo programma, visto da tutti quanti voi, saprete far arrivare alla persona giusta questa supprica, perché è una supprica da parte degli anziani, ditelo a noi. Quindi, come avete visto, le panchine, mancano queste pensiline, mancano di panchine, allora ci sono le signore, noi facciamo la spesa, insomma ve l'ho detto, non è che ripeto le stesse cose, occorre che su queste pensiline, ovunque si trovino, anche a San Cesario ci sono delle pensiline, ovunque ci sono pensiline, occorre mettere una panchina, in modo che le persone anziane si possono sedere. Anche se a Santa Lucia, io ricordo, non sono nuovo di queste disavventure, vi era una panchina, c'era gente che reclamava che quando pioveva per la panchina non si poteva riparare, perché la panchina era troppo profonda, era troppo larga, il vestito è corto e lungo, non si sa mai chi accontentare e questo veramente è una cosa alla quale io non so come rispondere. Bene, concludendo, abbiamo due servizi importanti, voi sapete a Cava dei Tireni abbiamo sei fontane al centro, nel centro di Cava, nella valle, sei fontane, vediamo questo servizio. Ditelo a noi, non fate altro che protestare per questa fontana, sappiamo chiamare così fontana, che è qui nel parco Falcone Borsellino, io purtroppo tutto la definirei eccetto fontana, noi ne abbiamo sei qui nel cuore, nella valle, qui a Cava dei Tireni, allora la prima è quella proprio vicino alla stazione ferroviaria, no? Corso Principe Amedeo, tipo nave, è stata ripresa molto molto bene, la seconda la troviamo davanti al parco Beethoven, nel lato nord, nel parco Schuerte, no? Quello che voi dite la villa nuova, quello è il parco Schuerte, è stata ripresa da capo, quindi l'Ausino, l'ufficio manutenzione, quindi ringrazio Ingegnere Collazzo, il verde pubblico, tutti sono attivati per queste villi. Un'altra fontana che è molto bella, è stata messa a lucido proprio dalla Metellia, no? Proprio un grande lavoro, è stato fatto, è quella proprio in piazza, quella piazza Vittorio Emanuele III, che voi dite piazza Duomo. Qui stiamo nel parco Falcone e Borsellino, sono cinque con questa, c'è la sesta che è peggiore, poi andremo a vedere. Questa qui c'era una volta tartarughe, pesciolini, no? C'erano tante cose, qui adesso ci sono zanzare che ecco che mi girano attorno, zanzare quando ne volete. C'è questa massa, questa carenza di ossigeno nell'acqua ha creato questa massa superficiale di muschio, di erba, di flora, non so come definirla. Anche questa io ritengo che sia giunta l'ora per rifarla ex novo. Va chiusa, va rifatta, va vuotata, va riposizionata. Io non so a chi riferirmi, se l'assessore Enrico Polichetti, non lo so, se è il Nunzio Senatore, che a volte non si riesce mai a capire queste competenze di chi sono, dell'uno, dell'altro, se è dell'Ausino, se è della Metellia, se è dell'Ufficio di Manutenzione, se è del Verde Pubblico. Troppa gente, troppi, troppi, come poi sto dicendo a modo mio, no? Troppi, troppi riferimenti. Se ce ne fosse uno solo, forse è meglio. Quindi anche questa quinta fontana, chiamiamola così, qui va sistemata perché le zanzare sono tante e certamente non è una fontana. Ecco la sesta fontana, eccola qua. Ve la ricordate? Io me la ricordo, Zampillare, aveva 4-5 Zampilli, c'è Franco, Franco Vitale, quello che vuoi dire, Franco Fontanare, ex dipendente comunale, l'Ufficio Acquedotto di un tempo, Franco Vitale, che mi ha detto che questa fontana lui la curava, la manutenteva, quindi era affezionato in modo particolare. Beh, questa è morta, c'erano dei fari, mi ricordo, intorno. Insomma, era una bella fontana per questa piazza. Oggi pare che questa piazza non venga più rifatta perché abbiamo cose da fare, c'è il trincerone da sistemare sotto via, c'è il parcheggio sotto al trincerone, quello enorme per il parcheggio da finire. Ci sono altre opere per cui l'amministrazione Servalli sembra che su questa piazza non voglia spendere soldi per ora. Bene, mare, questo io non lo so, non sta a me dirlo. Va bene, però in suonso dell'avviso finiamo le cose da finire, è inutile metterne altre in cantiere, poi non finiamo niente e manco va bene. Quindi questa è la sesta fontana, vedete? Sarebbe stata una cosa, dico, caruccia per questa piazza. Allora che diciamo? Su sei fontane, qui al centro di Cava dei Tirreni, al centro, non parliamo delle frazioni, ne abbiamo quattro belle funzionanti, una che chiede pietà, che è quella nel Parco Falcone e Borsellino, la Villa Nuova, lo voglio ripetere, così la chiamate voi, quello si chiama Parco Falcone e Borsellino, che ricordo i due magistrati che hanno speso la loro vita per la giustizia, per la legalità. Bene, è questa che ovviamente chiede soccorso. Amici a casa, ditelo a noi. Sei fontane, quattro funzionanti, quindi lo abbiamo ringraziato tutti nel servizio, avete visto, no? Ufficio Manutenzione, Ausino Verde Pubblico, Assessore Porichetti, Assessore Senatore, abbiamo ringraziato tutti, anche se è una cosa ordinaria che deve essere fatta, perché ringraziare io questo non lo so. Forse andavano maledetti prima altri che per anni queste fontane sono state ferme e quindi oggi c'è voluto un maggiore sborso di danaro, perché quando un motore è fermo per anni è evidente che si chiedono incrostazioni e quindi anche gli ugelli che devono poi spruzzare acqua non fanno più il loro dovere e questo ovviamente non va bene. Allora, queste due fontane ultime, quelle del Parco Falcone e Borsellino, chiamatele con loro nome le cose, non si diceva Villanova, il Parco Falcone e Borsellino, sono due magistrati che vanno ricordati, eh? Quella fontana deve essere rifatta, si deve chiudere l'acqua, si deve vuotare, deve essere rifatta. Adesso arriva l'inverno, non so se è il momento, non lo so, io non ne capisco di queste cose, ma per la prossima primavera io sono stato tre minuti, quattro minuti là, mi hanno ammazzato di morsi le zanzare e non va bene. C'erano tartarughe, pescioline, adesso non c'è più niente, c'è del liquame e basta, sporcizia, qualche delinquente ha buttato anche bottiglie di birra, bottiglie di plastica, poi i delinquenti stanno da tutte le parti, io li chiamo bastardi, poi le signore dicono, eh ma quello dice parolacce, dice parole, signore cambiate canale, chi vi dice di guardarmi, di ascoltarmi, cambiate canale e guardatevi qualche cosa che vi fa piacere guardare. Invece mi ha fatto tanto piacere incontrare Franchino, ma sto Franchino, Franco Pisapia, guardate sta persona che veramente mi ha riempito il cuore, come a me, anche Vittorio Emanuele, vedete. Ditelo a noi, ci ha chiamato Franchino, il signore Franco Pisapia, siamo in via Guerritore 10, qui proprio nel cuore di Cava dei Tirreni. È un maestro che ha un'abilità bellissima, fa delle cornici meravigliose, le state vedendo amici a casa. Com'è questa passione? Voi siete un falignano, è giusto? È una passione che da bambino sono andato, sono stato sempre in mezzo al lavoro, in mezzo ai falignani. E ora ho trovato roba da riciclare e lo consumo a tempo perso. Fare queste belle cornici le state vedendo amici a casa. Ecco, poi questi quadri che sono anche antichi, queste immagini antiche, Franchino, dove le trovate? È un'espressione che mi viene quando dormo. Dormendo mi viene questa cosa da fare. E non ci dormo per realizzare queste cornici, dette cornici che poi ci sono tante altre cose che ho fatto. Ho visto, avete fatto degli scrigni, delle cose veramente carucce. Vedo questi pezzetti di legno tutti scavati, come fate per scavarli? Tutti con gli scarpelli. Ah, con lo scarpello? Tutte a botte di scarpello, carta verde, l'aspe e tutto. E per esempio, per esempio, da un pezzo di legno che avete dei parquet buttati, io ci creo una cornice così. Vedete? Un gollo per il suo pezzetto di qua. Poi lo affino, metto una cornice in giro così e realizza una cornice. Dopo che viene buttata. La notte voi pensate, le pezzi di legno che avete e da quelli li mettete insieme? Allora girando e votando in casa che non ho giorni niente da fare. Allora io scendo giù qualcosa e devo farlo. Devo farlo per passare il tempo. Perché, onestamente, io tengo la cervicale camminando e mi fanno un umbriaco. Allora me ne vado qui, mi faccio fumare le sigarette e passa il tempo. E non mi scoccia nessuno. Non mi scoccia nessuno. E veramente, sì, posso fare qualche regaluccio. Mai per... Per fini lucrativi. Per fini lucrativi, sì. No, per amicizio. Certo, certo. Viene qualcuno e dice quanto è bello che si è prendito. Facciamo un tavolinetto da quattro piedi nei tavoli di legno. fai, fai vedere. I quattro piedi. L'avete realizzato voi questo qua? Eh, sì, sì, sì. Quattro tavolette ho fatto i piedi. I piedi... Ah, con le tavole avete fatto i piedi in realtà... Tagliandolo così. È venuto questo piede qui e questo. L'ho messo... Avete assemblato? No, e ho fatto i piedi di tavole, che pochi ci riescono. Pochi ci riescono. Faccio dire, faccio... Ah, per lo scaldino per l'inverno. La cuccia per il cane, oltre alle cornici ovviamente. Oltre alle cornici. Sampiglio abbiamo visto. Eh, fate tante cose. Tante cose. Che volevo dire? Ecco. Da quanto tempo voi vi dedicate a questo? Da una vita intera. Sono più di 62, 60... Voi eravate falegname? Sì, mio padre falegname, i cugini, i caggesi. Ah, i caggesi. I caggesi di Passiano. Io sono nato mezzo ai falegname, sono 72, 73 anni sicuro di investire. Ma quanti anni avete? 81. Quindi da bambino? Da bambino. Uscivamo dalle scuole, andavamo a master, a master. E' entrato nel sangue. E' un messire. Appunto, mi vengono una certa idea che poi, se mi dimentica, io già realizzò, pensandosi un po' di più. Ho capito. Vabbè, dovete fare mente locale, va bene. Allora, abbiamo detto tutto, Franchino? Tutto, tutto. Il banco di lavoro. Il banco di lavoro. Il banco di lavoro, sì. Quindi quello avrà oltre un secolo. E' qualcosa in più. Più di un secolo. Perché i piedi sono tutti darlati, che si mandano scommessi all'impiede. Avete la sì, scommessa. Bene, allora, noi amici a casa vogliamo ringraziare Franchino? No, io voglio ringraziare a voi, senza fare un reclamo, pubblicità. Mio, se trovo qualche amico, quando è bello, prendi, io non chiedo niente, non chiedo niente a nessuno. Se dovrai venderlo, io non gli vengo mai perché costa, ci sta un buzzo di tempo. Quindi preferisce regalarlo. Come c'è a casa questo che ci insegna? Che nonostante questo signore ha compiuto 18 anni l'altro ieri, no, 80, è sempre attivo, è sempre vivo. Vedete, devo fare qualcosa. Quindi non sta davanti a un bar buttato o con un mazzo di carte in mano, vero? Ho vicino a buccietti che perdo sempre. Ho bigliardi che perdo sempre per il gioco e non ho fortuna. Per il lavoro non mi lamento. E allora vive il lavoro. Ditelo a noi. Grazie, Franchino. Un grande esempio, un grande esempio a tante persone, forse più giovani di voi, ai quali io dico prendete esempio. Guardate una persona, gli anni passano, ma vi posso dire l'attenzione per gli altri, per se stessi, sentirsi utili, darsi da fare. Avete visto quante cose belle realizzate? Lui le vuole regalare, non vuole niente. Sono dei quadri bellissimi, realizzati con le sue mani e un artigiano provetto, bravo e complimenti. Quindi come ci sono i delinquenti che rompono i vetri al sottopasso della stazione ferroviaria, e sono dei delinquenti giovani, spero che si ravvedano quanto prima, ci sono persone adulte mature, ma mature seriamente, che danno lezioni di vita. Ditelo a noi.